Benvenuti a questa edizione del Tg Sport di Telemolise che vogliamo dedicare ad uno storico ed appassionato tifoso del Campobasso, vale a dire Nicola Martelli, venuto a mancare all'affetto dei propri cari, alla moglie Iole, ai figli Salvatore, Florinda, Gianni, Alessandro e Massimiliano e ovviamente ai nipoti e ai parenti tutti va la solidarietà più affettuosa da parte del direttore della testata giornalistica sportiva di Telemolise Antonio Di Lallo e da parte di tutta la redazione sportiva. Calcio di Serie D, oggi alle 16 ci sarà la presentazione dei gironi di quarta serie, le molisane attendono di conoscere le loro avversarie, la Lega Nazionale di Lettanti con diretta sulle pagine Facebook e Twitter svelerà la composizione dei nove raggruppamenti per la stagione 2017-2018 e a seguire anche gli accoppiamenti del turno preliminare di Coppa Italia in programma il prossimo 20 agosto. Intanto questa mattina c'è stata una conferenza stampa intorno alle 11.30 presso la sala stampa di Contrada Selvapiana la presenza di circa 50 tifosi rosso-blu è stato presentato l'organigramma societario del Campobasso Presidente Marco De Lucia, Vicepresidente Danilo Leone, Alberico Turi, Consulente della Presidenza, Minadeo dirigente, Alessandro Iacoletti segretario, Andrea De Lucia dirigente responsabile del marketing. Questi i ruoli principali dell'organigramma rosso-blu abbiamo avvicinato alla fine della conferenza stampa il nuovo Presidente Marco De Lucia. Allora al termine della conferenza stampa con tanti tifosi Marco De Lucia, nuovo Presidente del Campobasso si è presentato con la figlia Teresa con tanta passione e ha detto voglio vincere subito a Campobasso l'operazione è avvenuta praticamente un mese fa l'acquisizione del Campobasso. Certamente come lei diceva vogliamo vincere, è stata una cosa molto veloce venire qui così in fretta ho messo uomini importanti in campo, conoscitori del calcio, tecnici importanti, consiglieri a livello nazionale con tantissime esperienze come Aliberti che è rimasto ancora con noi, l'ex Presidente Salernetana e il Presidente vostro, ma è stato con noi tanto tempo, ecco insieme vogliamo costruire ragazzi ovviamente c'è bisogno dell'aiuto di tutti quanti, regioni, tifosi, gente che deve voler bene al Campobasso noi siamo qui oltre che come imprenditori, io e la mia famiglia, specialmente con mio fratello, i miei figli e i suoi figli come tifosi di questa società e lo vedrete nel campo come ci terremo più di voi che questa società deve arrivare in alto ho detto ci vuole tempo ragazzi, però io mi aspetto che già quest'anno debba succedere qualcosa di importante perché in un modo o nell'altro io devo salire di categoria, non so come ma ci proveremo a tutti i costi sul campo e anche fuori campo, facciamo i mezzi per riuscire a portare questa società in alto Siete proprietari del 60% della società, la situazione contabile della stessa era pesante prima Stiamo alleggerendo, stiamo risolvendo tutti i problemi vostri dovete capire innanzitutto che non siamo qui gente sproveduta, non solida che arriva in una regione così importante a creare casini Noi dobbiamo mettere a posto tutte le cosine i nostri cari amici e i nostri tecnici sono già attivati per risolvere tutti i problemi l'iscrizione è avuta regolarmente, sono stati versati quello che c'era da prestare alle banche Siamo qui per questo, io non butterò soldi, specialmente i soldi della società, nemmeno i miei però posso garantirvi che i fondi che saranno messi in questa società dovranno dimostrare al popolo che c'è qualcuno che vuole bene capo basso Bene, in bocca al lupo complimenti per le ambizioni che avete già da subito come famiglia De Lucia Ma l'ambizione di vincere non abbiamo nel DNA Ovviamente il calcio, come diceva il carissimo Amerigo, è imprevedibile ci sono cose che non si possa sapere come vanno a finire però vedo gente che lotta, in campo, fuori campo e allora a quel punto anche se perdo sono contento ma devo vedere gente che lotta fino all'ultimo minuto questo è il mio auspicio Ad Agnone continua la campagna di rafforzamento della Rosa guidata dal tecnico Candido Bucci raggiunto l'accordo con il difensore centrale Daniel Ola intanto domani al Civitelle in campo per il primo test amichevole contro il Casalbordino, formazione di promozione abruzzese Calcio regionale, l'Isernia si prepara per la prossima stagione un mix di giovani locali e uomini di esperienza ai nostri microfoni, l'allenatore Fabio Di Dienzo da qualche giorno si è iniziato a lavorare qui all'Ancellotta insomma inizia questa preparazione per la nuova stagione Beh sì, finalmente siamo sul campo stiamo facendo un ottimo lavoro a parte questo caldo un po' eccessivo però i ragazzi stanno rispondendo bene un gruppo subito unito con tanta voglia di fare bene e di lavorare questo mi dà tanta serenità Innesti di valore messi a disposizione dalla società ma c'è da dire anche che avete rinnovato una buona parte del pacchetto under della passata stagione quindi insomma l'obiettivo di valorizzare i giovani anche per il prossimo campionato rimane Sì, siamo comunque sulla strada dell'anno scorso la programmazione va portata avanti è normale che abbiamo bisogno di qualche elemento di esperienza la società si è mossa bene sul mercato e questo è un motivo in più per i giovani per crescere e farlo nel migliore dei modi I presupposti e gli obiettivi di questa stagione sono un po' differenti rispetto all'anno scorso a cosa si punta quest'anno? A vincere il campionato? Ma questo è presto a dirlo ancora siamo agosto Noi quello che dobbiamo fare è dare il massimo lavorare col massimo impegno e poi ogni domenica cercare di portare a casa i tre punti Quindi l'Isernia parte a testa bassa? Tanta umiltà, tanto lavoro con la consapevolezza che dobbiamo fare meglio dell'anno scorso questo è sicuro e poi le somme si faranno alla fine sono contento della rosa che ho a disposizione vediamo se la società ha intenzione di muoversi ancora altrimenti andiamo avanti con questo Giovedì prossimo è in programma il Memorial Ditella evento organizzato dal Vasto Girardi che vedrà scendere in campo l'Olimpia agnonese e il Francavilla al mare neopromossa in Serie D tra i riconfermati Cato vediamo Clinti Cato, giocatore del Vasto Girardi riconfermato chiaramente anche quest'anno appena è iniziata la preparazione che gruppo si sta costruendo per la squadra del paese? Sì, secondo me è un bel gruppo perché hanno arrivato i giocatori importanti per vincere il campionato e secondo me stiamo lavorando bene una partita importante per noi la prima partita abbiamo vinto 3 a 1 vabbè, possiamo fare meglio Secondo te qual è l'elemento che può dare vantaggio al Vasto Girardi in questo campionato? No, allora un elemento non è che posso dire però secondo me che ho visto in questi tre giorni che abbiamo iniziato ho visto un bel gruppo che siamo tutti siamo tutti vicini dagli altri Sarà un campionato piuttosto duro con tante squadre che sono ben organizzate anche l'Isernia Sì, però secondo me sono noi e i Senio scusami, siamo le squadre che prendiamo per vincere il campionato poi vabbè Allenamenti intensi per il Termoli nuovi giocatori e nuovo staff tecnico per il team Basso Molisano Davide Ruffilli preparatore neopreparatore della città di Termoli state sudando da circa dieci giorni state lavorando tanto per cercare di accelerare In questa prima fase stiamo lavorando soprattutto per dare condizioni di base come la potenza aeropica stiamo facendo un lavoro specifico del genere i carichi di lavoro sono notevoli quindi in questa fase i ragazzi sono molto affaticati Che riscontro hai avuto da questa impressione soprattutto da queste prime giornate? Devo essere sincero un gruppo di ragazzi bravi, motivati con un grandissimo spirito veramente di sacrificio la dirigenza è una dirigenza molto motivata e un mister molto preparato un ragazzo in gamba che conosco da un po' è una persona che ama tantissimo lavorare sul campo Tu hai lavorato tanto anche nel passato soprattutto a livello professionistico lo ricordiamo sei stato alla Vastese sicuramente è un'esperienza importante quella che porterai in questo città di Termoli per far crescere questo gruppo per farlo trovare pronto per il campionato che è l'obiettivo principale Certo, il discorso è che con il lavoro metodico fatto quotidianamente sul campo si ottengono i risultati sono ragazzi che alla fine molti sono fuori quota devono crescere invece ci sono gli over che sono già persone che hanno già calcato questi palcoscenici quindi sono persone già preparate soprattutto al sacrificio fisico e atletico Quando influisce in questo periodo il caldo terribile tra l'altro su questi ragazzi che hanno ripreso a correre dopo quasi un mese e mezzo o due mesi di fermo? Inizialmente incide notevolmente solo che c'è il periodo di adattamento di una decina di giorni 15 giorni dove loro si possono facilmente acclimatare poi il caldo purtroppo c'è ci dobbiamo adattare gli diamo un attimino più dei tempi di recupero maggiore quindi i ragazzi sono pronti nel tempo a stare anche sotto a queste temperature che sono veramente africane battuta finale si parla di entusiasmo che dovrebbe essere il perno importante e principale della nuova stagione hai trovato entusiasmo in questo gruppo? Assolutamente sì perché sono coscienti di tutti i ragazzi di appartenere ad un gruppo competitivo e con grandi veramente obiettivi da raggiungere quindi sono consapevole di questo il mister è stato chiaro quindi ormai la società ha dichiarato in maniera esplicita l'obiettivo che è uno solo quello di cercare di salire in interregionale questo per il calcio regionale prenderà il via giovedì prossimo la stagione del Castelmauro per il giorno seguente la società ha organizzato l'evento i campioni di ieri per andare a celebrare il trentennale del team bianco-rosso in campo le vecchie glorie del Castelmauro si è aperta questa settimana la preparazione atletica del Ferrazzano che si prepara ad affrontare il campionato di promozione Sabelli portiere del Ferrazzano si apre una nuova avventura nel campionato di promozione salto di categoria arrivato d'ufficio però anche di merito sul campo sì abbiamo vinto la finale playoff l'anno scorso un mese fa tra l'altro e niente ora iniziamo questa avventura speriamo di fare un bel campionato consapevoli delle difficoltà speriamo di rinforzarci per quanto riguarda il girone è stato allestito per quanto riguarda la FIGC tante squadre anche di fuori regione tante realtà invece consolidate del campionato di promozione tante outsider come voi in questo caso ne ho promossa sì abbiamo visto il girone sinceramente lo trovo molto difficile tutti i campi importanti paesi abbastanza grandi speriamo di non sfigurare per quanto riguarda invece la squadra si riparte da tante riconferme tante anche new entry e si punterà soprattutto sui giovani sì l'obiettivo della società è questo i giovani fuori quota abbiamo avuto qualche compagno che ci ha lasciato ora la società comunque sta lavorando anche per i dovuti rinforzi che servono sicuramente per quanto riguarda invece la Coppa Italia si parte a fine agosto siete capitati in un girone infernale lo ha definito così anche il vostro mister per chi sono gambatesa vasso Girardi, Vairano sarà difficile però un buon banco di prova per prepararvi in vista dello start della stagione il 10 settembre sì diciamo che sono partite che ci possono fare solo crescere senza guardare troppo il risultato però iniziamo a fare un po' di esperienze anche in Coppa Italia l'obiettivo della squadra è la salvezza il tuo personale invece in questa stagione? no io spero che la squadra innanzitutto si salva perché siamo tutti ragazzi bravi tranquilli che già dall'anno scorso hanno fatto secondo me un miracolo calcistico a vincere questa finale quindi è doveroso provarci anche quest'anno con una bella salvezza tutti insieme definiti gli organici di eccellenza e promozione la FIGICI Molise lavora per gli altri tornei con l'inizio della stagione che incombe e le scadenze per l'iscrizione sempre più vicine il presidente della FIGICI Molise Piero Di Cristinzi avvicinato telefonicamente ha voluto fare chiarezza sulla disputa dei vari campionati regionali sulle sue aspettative e sulle eventuali iscrizioni e non per quanto riguarda l'eccellenza si dice soddisfatto e si aspetta molto da questo campionato che prevede mai come quest'anno particolarmente equilibrato ed avvincente e che vedrà la partecipazione di numerose squadre come il Vasto Girardi Termoli e di Sernia le Minevaganti Venafro e Treppini Matese Team che se la giocheranno senza esclusione di colpi alcuna per conquistare la vittoria finale ed il conseguente salto in Serie D l'altra faccia della medaglia la mancata iscrizione della SD Yeltsi avvenimento questo che ha lasciato non poca amarezza nelle aspettative del presidente passando alla promozione anche qui stesso discorso campionato sempre molto entusiasmante ed incerto con squadre che si affacciano per la prima volta a questo torneo come il 4 Torri Chieuti ed il Carovilli per quanto riguarda i campionati minori oggi scadono i termini per le iscrizioni alla prima categoria ed alla C1 di calcio a 5 mentre per la C2 si dovrà attendere il 29 agosto in prima categoria si registra l'iscrizione del Macchia che non ha dato seguito alla vittoria del campionato di eccellenza scorso ben otto invece le società che hanno inoltrato domanda di ripescaggio sempre in prima categoria mentre 4 le società che presentano ancora qualche difficoltà sebbene ci sia da parte del presidente di Cristinzi tutta la disponibilità possibile al fine di completare e regolarizzare l'iscrizione in attesa di stasera con la conseguente ricezione del bonifico bancario che attesta a tutti gli effetti l'avvenuta conferma di ufficialità di partecipazione al campionato le notizie definitive saranno rese note dopo ferragosto esattamente intorno al 21-22 quando verranno esaminati tutti i bonifici pervenuti fattore questo essenziale dopodiché si potrà procedere all'allestimento dell'organico di prima categoria di C1 di Calcio A5 e dalla compilazione dei calendari per la prossima stagione Calcio A5 il CLN Cusmo Lisi ha siglato un accordo con Orange Futsal di Sinisa Milosevic per la società di Asti è il primo accordo di collaborazione inerente il progetto inaugurato recentemente Metodologia Orange un programma stagionale dettagliato di allenamenti e di costante confronto tra il sodalizio astigiano e i club che hanno sposato il progetto per la società molisana la collaborazione con importanti società dei massimi campionati garantisce un'ulteriore spinta verso la cura e la gestione professionistica di tutte le attività Calcio estivo l'isola che non c'è è approdata alla semifinale del torneo 3 contro 3 Boiano Mundial pass in semifinale anche per il team di Cerce Vitone questa sera sono in programma le semifinali di basket volley e calcio maschile domani le finalissime non è voluta a mancare al mondiale Inda Street il team di Carmosino vediamo Dario Grassi da Carmosino anche tu hai partecipato al Boiano Mundial Inda Street come è andata? è andata benissimo anzi volevo ringraziare appunto tutto il clima e soprattutto Elio che è stato fantastico un'accoglienza epica ci ha dato veramente infatti appena siamo arrivati eravamo tutti gasatissimi per questo torneo infatti molti esponenti del del Carosino team che era capitanato da due squadre Musicuro e Civitedda e molti sono rimasti senza voce proprio per l'entusiasmo che hanno messo appunto per questo torneo è stato veramente qualcosa di di fantastico come venite dalla provincia di Taranto e già l'anno scorso siete stati presenti una giornata qui quindi è uno scambio che si rinnova sì ma è sempre un piacere alla fine perché se l'accoglienza è questa il clima è questo poi alla fine la cosa che ci accomuna con Boiano è la passione per il calcio quindi è sempre un piacere venire qua ecco mi hanno detto che sei un grande imitatore no? quindi vogliamo far sentire al pubblico di Telemolise qualche imitazione ok? allora la prima Pizzul mi hai detto sì penso che questo campionato è stato davvero incredibile Inzaghi clamoroso attenzione grandissimo Ibrahimovic penso questo mondiale è giocato bene bene penso abbiamo fatto uno buono gioco qualcuno si è fatto male se uno andava a finire contro di me faceva male quindi meglio per lui che non è capitato quindi va bene quindi anche Ibrahimovic lo sai qualcun altro che ti viene bene un'altra e due ti chiedo beh sì il mister Claudio Ranieri sarebbe stato felice di essere qui al Boiano Mundial perché davvero è stato qualcosa di incredibile va bene hai il mister un po' scottato dall'esonero all'ester sì devo dire che l'esonero mi ha lasciato un po' perplesso però va bene sono cose che per un allenatore capitano nella sua carriera e quindi ripartiamo dal Boiano Mundial sempre più forti e va bene e dunque un ultimo l'ultimo l'ultimissimo ma il mister Spalletti credo che sarebbe molto molto contento di poter partecipare a questa edizione che è davvero un'edizione fantastica e credo che l'anno prossimo riverremo con le stesse intenzioni sempre con la solita voglia di vincere che è sempre quella quella che e Totti? no Totti non è nel repertorio no Spalletti su Totti ma Totti davvero un grandissimo giocatore è stato davvero una fortuna poterlo allenare sicuramente anche lui se fosse venuto qua sarebbe stato davvero molto contento di poter di poter giocare grazie mille è stato gentilissimo grazie a voi questa sera appuntamento con Salli Cangiano che si esibirà presso Masseria Grande a Monte Cilfone una serata di buona musica e gastronomia con un aperitivo appuntamento a partire dalle ore 20 prosegue il cartellone estivo dell'Orso delle Vigne ad Acquevive di Frosolone domani e dopo domani appuntamento con la Sagra della Vacca Argentina appuntamento a partire dalle 12.30 per uno degli eventi più attesi dell'estate frosolonese serata spettacolo questa sera presso la pasticceria la Dolce Napoli in Via Nobile a Campobasso a partire dalle ore 21 aperitivo cenato con i Mosaico termina oggi la ventunesima edizione del Festival Nazionale del Teatro Popolare e della tradizione sul palco scenico del Parco San Giovanni la compagnia di Santa Croce di Maiano Scema Sembrnui con la lettera di mamma questa sera anche le premiazioni del concorso fotografico associato all'evento bene era l'ultima informazione per questa prima edizione del TG Sport di Telemolise vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon pomeriggio grazie a tutti